A metà giugno c'era la possibilità di riaprire anche per le strutture teatrali, ma sono rimaste chiuse le porte del Teatro Nino Manfredi. Ufficialmente i teatri e i cinema potevano aprire il 15 giugno, però per due ordini di motivi il Teatro Nino Manfredi non è aperto. Intanto l'attività teatrale sostanzialmente durante l'estate è sospesa e poi dobbiamo capire che cosa significa per noi tutte le limitazioni che hanno messo per la nostra attività. Nel senso che per un teatro di 300 posti come il nostro poter far entrare solamente 100 persone, quindi circa un terzo della capienza possibile, può diventare per noi un problema economico che dobbiamo studiare meglio. Il problema vero è il distanziamento, nel senso che bisogna mantenere il famoso metro che vale un po' per tutte le situazioni, quindi significa un posto sì e due no e una fila sì e una fila no. Le famiglie possono stare insieme, però questo non significa che poi alla fine facendo i conti possiamo far entrare più di 100 persone su 300. Intanto però voi già state pensando al futuro, diciamo. Assolutamente, questa è la buona notizia. Noi siamo pronti domani mattina a ripartire con un cartellone straordinario e il direttore artistico insieme a noi chiaramente l'ha scelto proprio all'insegna del divertimento per cercare di dimenticare questo lockdown, inserendoci sempre un grande spettacolo di Pirandello, a noi tanto caro e tanto caro anche alle scuole. Gli abbonati possono già contattarvi? Noi li contatteremo per email già domani dopo domani, anche telefonicamente per coloro che non hanno le email. Li contatteremo appunto per chiedere soltanto l'intenzione a rinnovare l'abbonamento affinché poi possiamo parlare meglio con le compagnie con dei numeri anche se non confermati ma già abbastanza veritieri. Si parla di spettatori però c'è anche un problema a livello di palco perché gli attori, come dire, devono essere distanti. Gli attori devono essere distanti a differenza dei calciatori. Quindi io chiedo a chi ne sa sicuramente più o meno, non ho le competenze per poter capire bene questa cosa, qual è la differenza sostanziale oltre agli stipendi tra attori e calciatori? Qualcuno mi rispondesse. E la speranza quindi è che il cancello alle mie spalle al più presto possa essere aperto. Dal Teatro Nino Manfredi di Ostia per Canale 10, Alberto D'Abbì.